Trenord Formulaui, nuova vita alle vecchie divise. Quanti viaggi hanno fatto le vecchie divise Trenord? Innumerevoli, su e giù per i binari della Lombardia. Grazie alla collaborazione con Umana People to People ONNUS e al progetto Trenord for Malawi, l'ultimo viaggio è stato quello più lungo e importante. Le divise non più in uso, dopo essere state rigenerate, sono state donate agli studenti delle scuole magistrali e professionali di Umana in Malawi, piccolo stato dell'Africa sudorientale. Umana è un'organizzazione umanitaria indipendente e laica, nata per contribuire allo sviluppo dei popoli in Africa, Asia e America Latina. Le divise, invece di essere eliminate, sono state raccolte da Trenord attraverso Ecobox dedicati. Trenord ha poi consegnato le divise raccolte ad Umana, che le ha rigenerate, per poi spedire le divise rinnovate. Destinazione Malawi. Trenord for Malawi è un grande progetto di sostenibilità e solidarietà che vede la partecipazione attiva di tutta l'azienda. Un gesto di altruismo genera sorrisi. E tu? Sostieni Umana come Trenord. Dona i tuoi abiti. Sostieni Umana come Trenord.